Svolta nelle indagini sulla morte di Angela Stefani, scomparsa dal febbraio scorso, i carabinieri di Mazzara del Vallo hanno arrestato su richiesta della procura della Repubblica di Marsala Vincenzo Caradonna, 47enne, originario di Salemi. L'uomo, ex compagno della donna, è accusato di omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere e detenzione di ordigni esplosivi. La donna, madre di due figli avuti da una precedente relazione, era scomparsa da tempo, da febbraio si è mossa la macchina delle ricerche coordinate dalla procura della Repubblica di Marsala, in sinergia con la prefettura di Trapani, che interessatò vaste aree urbane e rurali, compresi laghi, fiumi e pozzi, della campagna salemitana e dei comuni limitrofi ritenuti di interesse. Durante le indagini sono state ascoltate numerose persone che hanno permesso di riscostruire le ultime ore di vita della donna e che ne hanno messo in evidenza la personalità violenta del compagno. Determinante si è rivelato il lavoro svolto dai ris sulle tracce ematiche, in particolare all'interno di un immobile in cui Caradonna viveva con la donna scomparsa. È emerso come vi fosse stato un grossolano tentativo di bonificare l'ambiente dove si sarebbe consumata un'aggressione violenta, a seguito della quale la donna avrebbe riportato delle gravi ferite con perdita di sangue. Sarebbero almeno sei colpi inferti alla donna. A Caradonna è stato contestata anche la detenzione di ordigni esplosivi artigianali da lui stesso costruiti e rinvenuti dai carabinieri nella sua abitazione al momento della perquisizione della casa e nei momenti successivi alla denuncia di scomparsa. L'arrestato è stato condotto al carcere di Trapani.